La mancata approvazione del rendiconto consuntivo 2015 o del bilancio di previsione 2016 potrebbe già far saltare il banco senza aspettare la mozione di sfiducia. Si elabori un progetto per la città o si ponga fine a questa anonima esperienza che per la situazione drammatica che stiamo vivendo è persino durata fin troppo. Lo dice in una nota il portavoce di area civica Gialesi Movimento, Filippo Guzzardi. Chi pensa di poter continuare a bivaccare nelle istituzioni cittadine almeno fino all'estate del prossimo anno, allorché passati i primi due anni di mandato si potrà votare l'eventuale mozione di sfiducia al sindaco senza che l'opinione pubblica ne abbia piena contezza, si sbaglia di grosso, dice Guzzardi. La farsa che è in atto figlia di un voto schizofrenico così come maturato alle elezioni comunali del 2015, per di più aggravato dalla circostanza che ha visto il primo cittadino espulso dal Movimento 5 Stelle dopo averlo candidato sei mesi prima, non può più andare avanti. Basta. La bocciatura quasi totale dei gruppi consigliari in merito alla relazione presentata nel Consiglio Comunale da Messinese ne è la fedele testimonianza, a meno di voler negare anche l'evidenza. Dall'entrata in vigore della legge regionale 17-2016, anche nella nostra isola, la cessazione della carica di sindaco comporterà automaticamente la cessazione della Giunta e del Consiglio Comunale. Viceversa, la cessazione del Consiglio Comunale comporterà automaticamente la cessazione del sindaco e della Giunta, con la parola che verrà data di nuovo ai cittadini nelle cabine elettorali dopo un breve e necessario periodo di gestione straordinaria commissariale. E questo, dice Guzzardi, non per forza a partire dal prossimo rinnovo degli organi comunali. L'articolo 5,2 bis della legge regionale 17-2016, rimarca ancora Guzzardi, stabilisce che la cessazione del Consiglio Comunale per qualsiasi altra causa rispetto a quella delle dimissioni contestuali comporta, a partire da subito, cioè dall'entrata in vigore della legge, la decadenza del sindaco e della sua Giunta. Una precisa disposizione che trova applicazione, quindi immediata. E quali possono essere altre cause di scioglimento del Consiglio Comunale, a parte le oramai tristemente note infiltrazioni di stampo mafioso? Sicuramente l'iradambienza del civico consesso in ordine all'approvazione degli strumenti finanziari cardine di un comune, ossia il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo. Giusto per rendere l'idea a chiude Guzzardi, basti pensare che per non approvare un rendiconto consuntivo o un bilancio di previsione è sufficiente anche una maggioranza semplice, nettamente inferiore alla maggioranza qualificata richiesta ad esempio per la mozione di sfiducia. È stata depositata ieri all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Gela la relazione della Commissione di Indagini istituita dalla Sisecifica in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti in città. La Commissione ha acceso i fari sull'ultimo anno e mezzo da giugno 2014 a dicembre 2015, cioè dire dall'amministrazione fasuro a quella messinese. Ai nostri microfoni il consigliere Romino Morselli, uno dei componenti della Commissione presieduta da Salvatore Gallo è composta dai consiglieri San Mito, Diddio, Siracusa, Malluzzo, Torrenti, Amato e Cascino. Perché la nostra attenzione si è concentrata nell'ultimo biagno? Perché nell'ultimo biagno che la città di Gela assiste ad una trasformazione del servizio di raccolta rifiuti. Abbiamo cercato di capire come sia avvenuto questa trasformazione, questo passaggio repentino e quali costi questa trasformazione abbia comportato per le tasche dei cittadini gelesi. Ed è proprio lì che abbiamo individuato attraverso tutta una serie di elementi documentali e audizioni dei diversi attori protagonisti, sia della parte amministrativa che dei dirigenti del settore che i responsabili della società in questione che si occupa del servizio di raccolta. Abbiamo avuto modo di analizzare come la città di Gela si sia trovata in modo per noi un po' approssimativo e repentino ad una immediata trasformazione del servizio di raccolta rifiuti che passa da un servizio di raccolta indifferenziato ad un servizio di raccolta differenziato con il metodo porta a porta, ma la cosa che ha lasciato un po' stupiti i componenti della Commissione è che l'impegno dell'amministrazione comunale nel giugno del 2014 fosse quello di accogliere una proposta migliorativa da parte della società che gestisce la raccolta a costo zero, quindi senza ulteriori costi per il Comune di Gela. La cosa che ci ha stupito è che il capo dell'amministrazione precedente, con la copertura successiva di una delibera di giunta, decidono di accogliere questa proposta e poi stranamente ci troviamo a dover analizzare tutta una serie di costi e di servizi aggiuntivi che hanno comportato un notevole sborso di denaro pubblico a discapito di quello che era l'impegno iniziale. Questo è quello su cui noi abbiamo concentrato la nostra attenzione e soprattutto anche su tutto quello che è stato fatto a livello amministrativo, perché abbiamo notato che rispetto a questa scelta, che è una scelta politica, non ha fatto seguito una scelta dirigenziale oculata, una scelta dirigenziale né, diciamo, soprattutto parsimoniosa di quello che poi sarebbe stato appunto l'esborso per le casse del Comune. E quindi sono emersi anche delle responsabilità, a nostro avviso, amministrative. Un ciclo di incontri sull'educazione civile e stradale rivolto agli extracomunitari presenti nel centro Sprar a Gela. È l'iniziativa del Comando di Polizia Municipale, retto da Giuseppe Montana. Il primo appuntamento si è tenuto a venerdiscorso, ieri altro incontro, il vigile urbano Totosauna. Questi ragazzi, al di là di quelli che possono essere i nostri pensieri, le nostre opinioni, devono essere aiutati a rispettare le regole, devono essere aiutati ad integrarsi nella nostra società, devono essere aiutati sicuramente a conservare la propria vita, a conservare chiaramente a salvaguardare anche la vita degli altri. Quindi è iniziata questa collaborazione, secondo l'incontro che facciamo, è stata una collaborazione molto positiva e devo essere sincero, ho visto in questi ragazzi tanta voglia di imparare, tanta voglia di collaborare, tanta voglia di imparare. Questo secondo me è la cosa più importante. La Polizia Municipale fa sì che diventa veramente uno strumento importante a servizio della città, a servizio di tutte le varie componenti della città e penso che questa sia una cosa positivissima. Hanno partecipato in tantissimi a questa iniziativa. L'hanno ritenuta molto utile, soprattutto perché molti di loro si muovono con la bici all'interno del paese, per cui proprio per salvaguardare la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada hanno partecipato con molto entusiasmo. Grazie alla Polizia Municipale che sta impegnando sul chiessocorso che è molto importante per noi, perché è una progetta che progetta la vita a noi le stesse e anche a voi. Quindi è una cosa molto importante per noi, anzi grazie a voi per aver regalato chiessocorso. In diverse occasioni le abbiamo definiti viaggi della speranza. Da Gela a Palermo per chiedere un porto fruibile, incontri, tavole rotonde, riunioni tecniche. Si parlava tanto ma si concludeva poco e tutto rimaneva come era, con un porto insabbiato e con le barche che ne piangevano le dirette conseguenze. Ieri, martedì 27 settembre, è finalmente arrivata la sospirata firma con la quale si individuano interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale che saranno realizzati dalla Protezione Civile, indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5 milioni 880 mila euro. L'accordo attuativo è stato siglato dalla Regione Sicilia, dal Comune di Gela, dal Dipartimento regionale della Protezione Civile e da Eni. Il progetto esecutivo predisposto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile prevede come principale attività il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205 mila metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto rifugio con piantumazione di essenze arbore e un intervento di protezione dell'aria attraverso l'ampiamento e il rafforzamento del pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito. Oltre al potenziamento del porto rifugio, l'accordo prevede anche la realizzazione di uno studio sul sistema portuale gelese. L'analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l'attuale stato delle infrastrutture e i possibili interventi di riqualificazione e potenziamento volte a garantire il ruolo strategico del porto industriale di Gela all'interno del nuovo piano regionale dei trasporti. L'intesa si inserisce nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014 per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela. Sentiamo il sindaco Domenico Messinese. Ci sono sempre qualcuno come il PD che ha come al solito cerca di prendersi meriti che di fatto non dovuti in modo particolare, diciamo ne ha tanto quanto tutti gli altri, anche perché mi ricordo che noi ben insediati ci siamo opposti a un protocollo firmati dal PD dove consentiva con un investimento di 170 mila euro di fare una escavazione più che altro palliativa che serviva forse per il momento. E invece adesso abbiamo portato avanti invece un progetto che da 170 mila euro è passato a 5 milioni e 8 dove ci sono interventi strutturali e dove si ha un'escavazione che può rendere nuovamente il porto come era 20 anni fa. Adesso si buona benesperare in un porto fruibile e ad un sito da rivalutare a livello paesaggistico considerato che ancora oggi è meta di book fotografici matrimoniali e di passeggiate romantiche. Senza ombra di dubbio questo è il risultato di un lavoro attento e costante svolto dal gruppo di lavoro che con grande soddisfazione ho seguito fin dall'inizio. Lo dice il presidente del consiglio comunale Alessandracea dopo la firma a posta ieri sui lavori al porto rifugio di Gela. Che finalmente dopo diversi anni di questo porto con diverse problematiche sembra riacquistare quella che è la sua vera veste. Quindi non solo per i pescatori, per i diportisti e per tutti gli operatori che lavorano all'interno del porto ma anche come bene collettivo della città perché non dimentichiamoci che ancora oggi il porto è molto apprezzato dai cittadini gelesi che vanno a fare le passeggiate la sera, soprattutto in estate. Quindi sicuramente è un obiettivo importante che è stato raggiunto da parte del consiglio comunale e dico il consiglio comunale perché tutto nasce con il gruppo di lavoro che il consiglio comunale ha approvato grazie alla mozione presentata dal capogruppo del gruppo consigliere del PD che ha permesso agli operatori del settore di collaborare insieme agli amministratori, dunque insieme al consigliere Cirignotta, nello specifico Farruggia e Scerra, dando il loro contributo affinché anche con la regione si possa arrivare a questo momento conclusivo. Quindi siamo pienamente soddisfatti e speriamo adesso, aspettiamo il prossimo anno per l'opera completa. Il capogruppo consigliere del PD Enzo Cirignotta fa autore della creazione del gruppo di lavoro che ha seguito l'iter procedurale. C'era un'attesa in città per questa firma, numerosissime telefonate abbiamo ricevuto e dopo tanti anni finalmente un atto concreto ed è uno degli esempi in cui la politica riesce a recepire le esigenze del territorio e della città. Un esempio questo gruppo di lavoro che va replicato per altre tematiche perché ha portato veramente dei benefici al nostro territorio. In più di un'occasione ai rivolti avevate manifestato dissenso nei confronti della politica perché non si era mossa in merito al porto rifugio. Finalmente la politica si muove, è una politica bipartisan, non c'è nessun colore e alla fine finalmente arriva questa firma che darà il là ai lavori al porto rifugio. Diciamo che il comitato del porto di Gela è stata la spina dorsale della politica, ce li abbiamo proprio martellati, pressati e siamo arrivati a questo risultato anche grazie al comitato e anche grazie alla politica, siamo riusciti ad ottenere questo risultato. E da oggi a domani cosa accadrà al porto rifugio? Nella fattispecie da oggi a domani una volta messe queste firme dovranno arrivare fondi alla protezione civile che noi come comitato e come gruppo di lavoro ci attiveremo a capire e seguire l'iter in tutti i particolari e capire come va avanti. Quindi dovranno prima fase arrivare soldi materialmente alla protezione civile, dopodiché si farà la caratterizzazione delle sabbie. Non era un paradosso a Scania Carpino vedere una città di mare Gela senza un porto rifugio fruibile? Purtroppo sì, la colpa è dalla politica perché giustamente non ha mai costruito per l'interesse della città visto le condizioni del porto e quindi noi del comitato visto l'esigenza ci siamo attivati un anno e mezzo fa per portare avanti questa iniziativa. Ovviamente come ha detto il Presidente siamo stati la spina dorsale della politica ma questa spina aumenteranno fino a quando noi non vedremo i lavori eseguiti all'interno del porto. Ieri avete consegnato sia al Presidente della Regione Crocetta che al Sindaco di Gela Messinese anche una targa ricordo perché era una data indelebile quella di ieri che dovrà essere ricordata. Certo, la targa ricordo di più l'abbiamo anche consegnata al Presidente Crocetta soprattutto per dirgli che Gela Angolaccede esiste, quindi lui è gelese e spero che ancora deve essere orgogliosa di essere sempre più gelese. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. C'è il rischio concreto di perdere 40 posti di lavoro cancellando un pezzo di storia dell'azione educativa dei salesiani. È drammatica infatti la situazione che sta vivendo il CNOS FAP. A seguito di una procedura di mobilità avviata dai salesiani, numerosi dipendenti gelesi rischiano seriamente di rimanere disoccupati, altri invece, tra i pochi fortunati che non perderanno il posto di lavoro, saranno costretti ad andare in altre sedi siciliane, probabilmente rimpiazzati da colleghi provenienti da Ragusa, Palermo, Catania. In queste condizioni il CNOS di Gela, indipendentemente da chi resterà o da chi andrà via, rischia seriamente di avere vita molto breve e di scomparire per sempre. È il risultato di una trattativa regionale che vedrà il licenziamento di 134 persone su base regionale con una buona parte legata al nostro sito. In questa maniera rischiamo di perdere la nostra peculiarità, quella della saldatura, della tubisteria e della ristorazione, perché quasi buona parte di tutti gli istruttori verranno licenziati, ma chi resterà appiccicato andrà possibilmente a lavorare presso altre sedi. Questo qui, anche perché hanno chiuso due sedi, quelle di Catania, di Mister Bianco e di Ragusa, Gela rimarrà, ma rimanere a queste condizioni significa sicuramente fra qualche mese chiusura totale. Venendo meno i formatori che conoscono bene il territorio e quindi le problematiche e le criticità che ci sono nel nostro territorio, quindi da qui a breve tempo si potrebbe verificare la chiusura quasi totale dell'Indecnos che ad oggi, diciamo, quei formatori che hanno formato ed educato le migliori maestranze che noi conosciamo tra saldatori, termoedralici, elettrici e ristorazione, verrebbe meno e quindi si verrebbe a perdere quella formazione, ma anche quel rapporto che si è creato anche col territorio, con i giovani che si metterebbero nelle strade e quindi creando anche della microcriminalità e dando un danno ulteriore al territorio che ormai è martoriato da mille difficoltà. La vicenda del CNOS è stata affrontata ieri nella conferenza dei capigruppo preseduta da Alessandra Acia. È stato deciso di convocare una seduta straordinaria monotematica del Consiglio Comunale alla presenza dell'assessorato alla formazione della Regione e dei vertici salesiani. La seduta è prevista per la prossima settimana. Un vero e proprio tsunami politico anniscemi. La bocciatura del conto consuntivo 2015 da parte di sette consiglieri ha di fatto decretato il terremoto nella sede civica. Tutti a casa i 20 componenti del Consiglio Comunale. I consiglieri che hanno detto no al rendiconto finanziario sono Francesco Alesci, Gianluca Cutrona, Giacomo Gagliano, Giuseppe Manduca, Salvo Lupo e Giuseppe Rizzo. Tutti i consiglieri d'opposizione. Il conto consuntivo adesso dovrà essere approvato da un commissario ad acta nominato dalla Regione. Sono state rilevate numerose criticità, spiegano i sette consiglieri. Ecco perché lo abbiamo bocciato. Le modifiche al servizio di gestione dei rifiuti sono state riviste con due delibere datate 18 agosto 2014 e 14 gennaio 2015. Con quest'ultima sottolineano che produce effetti retroattivi si rileva un comportamento contabilmente non corretto o illegittimo. Il Consiglio Comunale, sottolineano ancora, dovrà inoltrare tutti gli atti al Prefetto e al Ministero degli Interni per far sì che venga inviata la Commissione di Accesso per la Verifica della Legittimità degli Atti Deliberativi della Giunta Municipale. Quest'amministrazione comunale, rimarcano, sta avviando il nostro ente ad un default finanziario con anticipi di cassa di 3 milioni e mezzo e 1 milione e mezzo la copertura del Governo per il pagamento dei debiti verso le imprese per un totale complessivo di 5 milioni che dovrà recuperare per il bilancio previsionale 2017. Sempre sette consiglieri evidenziano che oltre al danno c'è la beffa, una gestione politica amministrativa che non ha prodotto né crescita né sviluppo, ma solo debiti su debiti. L'importante però aggiungono che le feste siano sempre presenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il PD di Niscemi, dopo anni in cui ogni azione del Consiglio Comunale è stata disattesa dopo i mancati depositi delle relazioni annuali, dei bilanci approvati a Capodanno e della evidente situazione comatosa che vive la città, si è consumata l'ultima perla di questa amministrazione comunale che rimarra nella storia come la più fallimentare di sempre. Il PD, doveva analizzato la relazione del Collegio dei Revisori, evidenzia che gli atti relativi ai famosi premi alla ditta dei rifiuti, sono contabilmente non corretti e che l'amministrazione comunale ha fatto pagare 170 euro al giorno di interessi ai cittadini nicemesi perché ricorre sempre ai prestiti delle banche invece di prodigarsi nello stanare gli evasori e tutelare così i cittadini virtuosi che pagano. Tutto questo, dicono il Presidente Francesco Di Dio, il Segretario Enzo Salvo e il Capogruppo Consiliare Gianluca Cutrona, ci hanno indotto a dire basta, andiamo a casa. Non riteniamo più tollerare questa gestione scellerata ed una maggioranza che non c'è e non esiste e che non è in grado di risolvere neanche il più piccolo dei problemi. Niscemi e nicemesi meritano di più. Io, Ingegner Domenico Messionese, Sindaco di Gela, ufficiale dello Stato Civile, in nome della legge, dichiaro che il Signore Enzaldi Giovanni e il Signore Salvo Pasquaretto sono uniti, ci permette. Attorniati da parenti, amici e da semplici conoscenti, ieri hanno coronato il loro sogno d'amore nell'ex chiesetta di San Biagio a Gela. Loro sono Salvo Pasquaretto e Gianni Enzaldi, 27 e 41 anni. La prima unione civile in città è stata celebrata dalla sindaco Domenico Messinese. Gianni indossava abito nero, camicia bianca e papillon nero. Salvo il suo abito da sposa di colore avorio in pizzo francese, chiffon con uno strascico di 5 metri realizzato dallo stilista Coscanio. I capelli erano raccolti con un pettinino gioiello in pizzo incrostato di svaroschi. Gianni è un artigiano, Salvo è un parrucchiere. L'amore tra i due è scoccato 6 anni addietro. Abbiamo deciso di sposarci, Salvo si trovava dell'essitista e dell'essitista si ha trovato un'avvocatessa e gli ha detto l'avvocatessa, Salvo dice, è uscito la legge e dice, se voi vi potete sposare. Salvo io sono rientrato da lavoro e Salvo è venuto a casa e me l'ha detto, Gianni è uscito la legge che fa, dice ci sposiamo? E io ho detto per me, dico va bene, ci possiamo sposare. E abbiamo deciso di sposarci con Salvo. Che cosa ha pensato in quel momento? Niente. Che poteva cambiare tutto. Poteva cambiare tutto, infatti, poteva cambiare tutto, però cambia sempre qualcosa, non è sempre uguale come magari una convivenza, però ci stiamo sposando e cambia sempre qualcosa. Da quanto tempo va avanti questa storia? Da cinque anni che sto assieme con Salvo, nel 2011, io perché mi trovo a lavorare fuori e poi ho deciso di stare sempre qua a Gela con mia mamma, con i genitori, ho conosciuto a Salvo e abbiamo deciso di stare assieme. È da cinque o sei anni che stiamo assieme con Salvo. E da quel momento aveva mai pensato che potesse arrivare questo giorno? No, non potevo mai pensare che arrivava un giorno di sposarci, però ci siamo trovati tutti e due bene, attrettando io con lui, lui con me pure si è trovato bene e ne abbiamo deciso di sposarci. Adesso i vostri diritti sono sanciti anche dalla legge, a tutti gli effetti voi sarete una coppia, aspettavate questo momento? Sì, l'aspettavamo, lui aspettava pure questo momento di fare questo matrimonio e anche io aspettavo pure il momento di fare questo matrimonio. La sorella che emozioni sta provando? Per me sono emozionatissima, è un momento storico anche per questa città d'altronde. Sì, sì, sì. Perché non ha mai successo una cosa di questa qua, che è questo matrimonio, il primo matrimonio che si svolge a Gela. Che cosa vuole dire a tutte quelle coppie che invece non riescono ancora neanche a parlarne? Devono decidere loro se si vogliono sposare, è una cosa decisione sulla personalità, se si vogliono sposare, non si vogliono sposare, però io con Zalvo ho deciso di sposarci e ci stiamo sposando.